e Buonasera e ben trovati all'appuntamento che la provincia tv dedica ogni settimana al verde calcio al calcio giovanile che viene giocato in tutti i campi del nostro comprensorio oggi eh è una puntata speciale perché durante le vacanze di Natale i campionati non ci sono stati ma Civitavecchia grazie alla società Leocom eh nata appunto un torneo giovanile dedicato a tutti i ragazzi eh del nostro territorio e quindi abbiamo pensato di dedicare questa puntata o in parte a questo torneo insieme al pre al responsabile Stefano portiere e ancora eh in in grande fama e quindi insieme a te andiamo un po' a conoscere quale è stato un po' questo torneo perché oggi in mezzo a questo clima di grande festa che siamo qui c'è la finale la giornata dedicata ai piccoli amici con tanto pubblico con tanti bambini che si divertono però nei giorni precedenti si è svolto tutto il resto del movimento. Sì è stato questo torneo natalizio eh anche grazie al nostro sponsor Vita Group che ci ha permesso di poterlo fare organizzato su tutte le categorie in quanto noi riteniamo opportuno che nei periodi così festivi per le scuole quindi i bambini restano a casa a volte ci sono giorni lavorativi per i genitori e può essere un problema comunque è anche sospendere quelle che sono tutte le attività calcistiche come una scuola calcio. Siccome questo viene fatto da quasi tutte le scuole calcio noi abbiamo ritenuto opportuno invece creare sia questo torneo e comunque andare avanti con quella che è l'attività agonistica sportiva con la nostra scuola calcio. Infatti si sono alternati allenamenti a tornei in tutto questo periodo. Nella prima parte ci hanno giocato le categorie più grandi i 99, i 98, i 2000, i 2001, i 2002. Ieri c'è stata la finale di 2004 con la premiazione e oggi credo che sia la giornata dedicata ai più piccolini che sono quelli che danno un pochettino più di entusiasmo quando li vedi in campo. Ci sono il 2008, il 2007, il 2006 e i 2005 nei campi in fondo che fanno il torneo. Il torneo di oggi è racchiuso tutto in una giornata perché queste categorie diciamo non hanno la tenuta fisica per tenere un torneo di tre, quattro giorni tutti insieme e allora siccome essendo poche squadre proprio perché ripeto parecchie società nel periodo natalizio allenatori non disponibili e cose del genere sospendono quelle che sono le attività e allora abbiamo racchiuso in tre, quattro squadre quelle del comprensorio specialmente per dare possibilità a questi ragazzi di di divertirsi. Quindi allora in questi giorni c'è stato questo grande movimento. Noi l'avevamo lasciata Stefano eh in una puntata precedente quando ci aveva detto che dal poco in breve tempo appunto era nata questa scommessa e eravate cresciuti. Quindi questa crescita ancora costante e progressiva? Sì sicuramente ci sono tanti obiettivi da poter raggiungere a cui ambire e quello è proprio di uno di quelli è quello di dare continuità e a questa organizzazione basata su determinati eventi. Noi abbiamo la possibilità come dicevo l'altra volta di soffrire di una struttura come Juventus FC dietro che ci permette non solo di partecipare a eventi sportivi infatti abbiamo affissa adesso in Bacheca che penso per il periodo di Pasqua ci sono due grosse competizioni la Region Cup e l'Academy Cup delle Juventus che riguardano le categorie dai 2000 ai 2003 e credo che parteciperemo e poi abbiamo anche la possibilità considerata una possibilità secondo me bellissima di poter incastrare delle partite della Juventus per esempio stiamo cercando di organizzarci per andare a assistere a Juventus Siena con due categorie quindi si andrà su a Torino si vedrà la partita e il giorno dopo si farà una amichevole con i parietà della Juventus quindi per i ragazzini sono manifestazioni bellissime. Noi stiamo sfruttando appunto questa struttura oltre a questo ci sono organizzazioni di tornei interni che abbiamo progettato sempre per per far sì che comunque Civitavecchia anche sotto il profilo calcistico secondo me deve sfruttare quello che è il turismo delle persone stelle essendo una città di mare di porto bisogna dar vita un pochettino in qualsiasi modo all'economia della città. Noi lo facciamo cercando di organizzare questi tornei che possono portare scuole calcio di altre di altre città magari più lontane possibili così vengono soggiornano qui a Cittavecchia conoscono la nostra realtà e magari cominciano a creare questi scambi culturali che sono piacevoli. Allora Stefano insieme a te andiamo in alla ricerca un po' anche dei ragazzi che stanno giocando perché poi alla fine i protagonisti di oggi sono loro la scelta nostra della provincia tv è stata proprio di arrivare nel giorno in cui c'erano i bambini perché forse il calcio più bello in mezzo a tanto calcio scommesso in mezzo a tanti problemi forse il calcio più bello è vedere questi bambini quanto lottano anche per un amichevole. Sì loro sono appunto quello dicevo l'entusiasmo maggiore perché corrono si divertono se prendono un calcio non stanno lì a lamentarsi non reclamano hanno solo la soddisfazione di giocare a questo questo sport che sia uno dei più belli che c'è e lo fanno con l'entusiasmo veramente che c'è dentro di noi quindi con quella natura che ti porta a divertirti e questo credo che dovrebbe essere preso d'esempio da tutti perché c'è sempre da ricordare quella parte bambina che in ognuno di noi in questo caso ricordare quello che ti fa andare dietro una palla quando hai questa età quindi quei sentimenti quelle emozioni uno dovrebbe tenerli sempre stretti e cercare di dare continuità anche nel tempo. Mister Camilletti allora siamo qua abbiamo visto giocare anche tuo figlio quindi ci siamo anche resi conto che hai già lasciato il futuro a chi ti fa e quindi chi prenderà il testimone da te in mezzo a tutti questi bimbi qual è l'emozione che si fa perché abbiamo visto questi bambini giocare con grinta e con tanta voglia. Sì infatti l'emozione è quella il gioco libero abbiamo organizzato questa manifestazione insieme al campo dell'oro e al Santa Marinella e al dopo lavoro e abbiamo organizzato tutti i campetti da tre contro tre gioco libero i bambini si divertono spensierati e l'obiettivo è quello insomma non c'è ricerca di risultato non c'è torneo non c'è agonismo non c'è un primo secondo terzo posto i bambini alla fine verranno tutti premiati con una medaglietta per la partecipazione. Allora qual è un po' rivedere questi bambini piccoli a parte ecco che sei quindi un papà e quindi penso anche rivedere tuo figlio ma rivedere questi bambini piccoli ripensi un po' a quello che è stata la tua i tuoi primi passi raccontaci un po' i primi passi nel calcio. Beh ai miei tempi era era un po' diverso anche perché non c'era ancora non c'era ancora la scuola calcio e si cominciava già a giocare subito il campo grande a undici e quindi i bambini invece oggi diciamo sono molto più tutelati da quel punto di vista perché giocano con le porte con i palloni delle loro con le con i campi adatti alle loro insomma alla loro età e quindi tutto molto diverso rispetto a prima. Allora vicino a te c'è il mister del Santa Marinella vieni. Allora intanto presentati Mirko Mancin allenatore del 2005. Raccontaci un po' anche a te l'emozione di lavorare con i bambini e quanto è facile quanto è difficile le cose belle le cose brutte di stare a contatto con questi bambini piccoli. Le cose brutte non esistono sicuramente sono tutte cose belle di loro che si divertono. Per me è il primo anno che faccio allenatore. È una cosa bellissima perché vedi i bambini ridere si divertono con poco e poi fare la strada che ha fatto io anche Camilletti fino ad arrivare alla prima squadra che è un obiettivo di tutti però l'importante è il divertimento che loro hanno. Senti infatti noi dicevamo prima con Stefano che siamo rimasti un po' colpiti ma come rimaniamo colpiti sempre la scelta della nostra televisione di venire l'ultimo giorno di questo torneo proprio perché in campo c'erano i più piccoli perché nonostante sia un torneo senza vincitori però c'è un grande agonismo, una grande voglia di vincere e di divertirsi. Grande voglia di vincere mai perché il risultato noi non lo vediamo. L'importante è che si divertono, che ridono e che sicuramente fanno gruppo e squadra per adesso. Siamo qui questa mattina con questa giornata di festa con i piccoli però Nello nei giorni scorsi c'è stato invece un torneo vero e proprio. Allora come raccontaci un po' tecnicamente come è andato il torneo, che cosa hai visto, se sono state belle partite? Sì ringrazio anzi innanzitutto che le società che hanno partecipato ovviamente tutte quelle nostre diciamo cittadine, Campo dell'Oro, DLF, Civita Vecchia, sì è stato organizzato diciamo torneo di Natale, il partito è iniziato dal 21 di dicembre, si conclude oggi con questa giornata con i piccoli amici, iniziato ovviamente con le categorie 2002-2003, i primi giorni fin dal 21 al 24, poi nell'intermezzo tra Natale e Capodanno si è voto con 2000-2001 giovanissimi, fino a terminare come dicevo prima ad oggi, sì sono state belle partite, carini ma soprattutto si sono divertiti, c'è stato un grande afflusso di genitori, di bambini e il nostro intento era soprattutto far divertire loro, far fare più partite loro, sembra riuscito, i genitori e anche le altre società ci hanno dato merito di questa società, li ringrazio ancora di aver partecipato e spero che si possa andare avanti su questa. Infatti ecco la domanda mi hai quasi preceduto perché poi naturalmente è d'obbligo chiederti se a questo torneo, questo primo torneo nel primo anno di vita della Leocon continuerà e quindi si trasteca e quindi diventerà una tradizione anche questo? Sì sì sicuramente come sicuramente faranno anche altre società, cercheremo di incastrare le nostre diciamo attività cittadine e poi tutte le altre società. Sì il nostro sarà un seguito, è un inizio quindi ci sarà poi sicuramente anche per Pasqua e organizzeremo anche sicuramente altre cose, sono anche altri eventi che stiamo cercando di di mettere in piedi però piano piano con la collaborazione di tutti i ministeri di tutta la società cercheremo di fare altre iniziative insomma per tutti quanti. Anello accompagnaci perché noi adesso stiamo vedendo invece quelli in fondo che sono i più grandini perché vedo delle belle partite allora magari insieme andiamo giù a vedere un po' com'è la situazione. Mister Pieri come sempre lei intorno ai bambini oggi pure un po' malaticcio però c'è e insieme a questi ragazzi allora intanto è vero del torneo però è vero che pure saremo contenti di conoscere la tua squadra presentacela. Allora la mia squadra è un gruppo di 2005 qualcuno sono due due anni già che gioca qualcuno è nuovo stiamo cercando di fare un lavoro abbiamo due gruppi una con Roberto Fara uno ci sono io e voglio insomma ricordare Simone Romagnoli che oggi per lavoro non è potuto essere presente cerchiamo di divertirci cerchiamo anche di alzare un pochino l'asticella stiamo giocando bene il gol risultato conta poco per loro conta molto per me conta di meno però insomma l'importante è stare insieme divertirci e crescere insieme. Allora ragazzi posso venire a conoscere ci dite i vostri nomi? Gianluca, Andrea, Andrea, Leonardo, Adriano, Simone, Alessio, Patrizio. Allora ci fate un bel saluto? Fateci un bel saluto grande! Allora mister Mancini prima ti abbiamo sentito da solo oggi invece adesso ti vediamo insieme alla squadra. Allora presentaci un po' intanto come vanno se state facendo un campionato. Sì giochiamo tutti i sabbati un torneo organizzato dalla Dispoli loro ancora sono primi calci quindi il primo anno di Polcini sarà quest'altro anno quindi saranno già pronti per un campionato da affrontare e che dire si divertono si impegnano l'importante è quello che stanno facendo squadra. Quello è quello che mi interessa. Allora ragazzi adesso come abbiamo fatto nelle altre squadre allargatevi un pochino e diteci i vostri nomi così vi conosciamo. Marco, Daniele, Cristia, Edoardo, Rincezzo, Marco, Valerio, Cristian, Cristian. Allora ragazzi fate un saluto a tutti coloro che vi stanno guardando dalle nostre tv. Mister Romitelli allora oggi ti vediamo in mezzo a tutta la squadra sono vestono colori che non sono proprio i miei perché da buona laziale mi sarebbe piaciuto la Lazio mi sarebbe piaciuto vederli in bianco celeste però raccontaci un po' com'è la tua squadra se state facendo un campionato raccontami un po' ecco anche la bellezza di lavorare con i bambini. Sì ancora non facciamo campionato come tutte le altre società locali la classe 2005 sono piccoli amici e fanno praticamente scuola calcio e organizziamo però questi tornei ne abbiamo fatto anche uno prima di Natale al dopo lavoro ferroviario ora abbiamo organizzato questo torneo qui qui da noi molto molto simpatico siamo siamo quattro squadre quattro società locali e niente se stiamo lavorando con loro loro faranno il campionato il prossimo anno quindi c'è c'è tanto lavoro alcuni di loro non hanno mai giocato però vedo che c'è tanto entusiasmo ci stiamo divertendo tutti insieme e quindi niente ora sì sì allora ragazzi guardate tutti quanti davanti e raccontateci bene come vi chiamate alessandro giordano luca tommaso gianluca gabriele matteo davide emanuele samuele stefano per me è una grande emozione ogni volta venire a san gordiano perché questo campo è intitolato ad un ragazzo indimenticabile luca di janne quindi sicuramente oggi per lui e per la sua famiglia è una giornata di festa vi starà guardando e sarà un angioletto in più che proteggerà questi bambini sì per noi è stato importante lasciare questa intitolazione e renderli il più onore possibile noi lo faremo ricordando il solito torneo che si fa ogni anno per luca perché ha calcato questi campi era un ragazzino pieno di sogni e pieno di tanta felicità certo che quando succedono queste cose lasciano sempre un ricordo che col passare del tempo magari si addolcisce perché rimangono sempre i bei ricordi i bei pensieri però comunque sono ferite grosse importanti e ci dovrebbero far capire ogni tanto quali sono i valori veri della vita noi abbiamo il piacere ogni qual volta di poterlo ricordare abbiamo lasciato intitolato il campo abbiamo avuto ottimi rapporti anche con la famiglia con il papà con stefano il quale siamo rimasti che siamo a disposizione per qualsiasi evenienza e qualsiasi cosa hanno bisogno e niente ripeto faremo di tutto per onorarlo nel migliore dei modi con un bel torneo fatto nel periodo in cui c'è la ricorrenza. Allora prima di farti fare poi il bilancio di tutta questa esperienza intanto Nello prima ci dicevi che volevi fare dei ringraziamenti anche a chi ha partecipato. Sì mi hanno dimenticato e chiedo scusa che anche le società come Santa Marinella, Santa Severa e San Pio che hanno fatto sì che questo torneo potesse prendere vita sia in tutte le categorie quindi chiedo scusa e ringrazio anche loro oltre a quelle già citate prima. Allora Stefano a te l'ultima parola facciamo un bilancio conclusivo di questo per voi era la prima volta lo dicevamo primo con Nello nel vostro primo anno di attività come è andata? Ma è andata sicuramente in maniera positiva noi ripeto noi stiamo facendo un bilancio proprio oggi pomeriggio credo abbiamo una riunione per chiudere i primi sei mesi prescindere il torneo che è stata la prima esperienza e magari è giusto per dare il via a quelle che saranno gli eventi anche se abbiamo fatto il piccolo torneo in uscita sempre per i piccoli amici a Fiuggico avendo riscosso parecchio successo noi cerchiamo di far vivere delle esperienze che i ragazzini terranno sempre con affetto nei loro ricordi ma non solo con i tornei anche con quello che è il lavoro settimanale il lavoro annuale pensiamo di fare questo come ripeto il nostro lavoro è basato sul fatto di cercare di dare il più possibile qualità oltre ai ragazzini ma soprattutto anche ai genitori cercando di dare dei servizi che possono garantirgli determinate prestazioni qualitative sia sotto il profilo organizzativo che sotto il profilo tecnico quanto concerne il profilo tecnico gli allenatori si attengono a dei programmi della Juventus per quello che riguarda il profilo organizzativo noi come società facciamo di tutto il possibile per creare delle attività delle iniziative che magari a volte vengono date per scontate non vengono tenuti in considerazione per esempio un'iniziativa che noi abbiamo fatto a Natale che è stata rimarcata anche da voi è che secondo me è stata bellissima il fatto dei regali di Natale che ogni bambino nostro abbiamo messo un recipiente dove veniva scritto che ogni bambino nostro con il suo volere se a sua volontà insomma di mettere un giocattolino anche usato per dei bambini che magari più bisognosi che hanno più bisogno che non hanno possibilità di avere giochi e abbiamo riscosso tantissimi giocattoli quindi è stato un successo bellissimo perché sono stati dati tantissimi regali addirittura ci sono stati bambini che sono presentati con giocattoli nuovi quello per far capire che questa società è aperta anche al sociale e a dare dei messaggi di crescita a questi ragazzini che vanno al di là di quello che può essere un'attività agonistica come il calcio noi impostiamo la nostra scuola calcio su dei principi che possono aiutarli per tutto il corso della loro vita e dare una crescita a volte anche nei rapporti noi abbiamo tanti bambini magari che inizialmente a casa timidi ho sentito tante mamme dicendo mio figlio ha cominciato a fa questo ha cominciato a fa questo nostro obiettivo principale rimane quello poi se tra questi ci sarà un futuro campioncino ben venga però credo che la cosa fondamentale e principale da da far capire a tutta la cultura calcistica cività vecchiese ma in generale tutte le scuole calcio è che non si deve fare questo cercando di sfruttare l'immagine dei campioni e magari in maniera ipocrita prendendo in giro dei genitori o facendogli credere cose che non sono che secondo me quello che la cosa lo scopo più importante è di un inserimento sociale con dei giusti valori in uno sport di gruppo che aiuta la crescita sia sportiva ma soprattutto sociale dei bambini allora grazie a Stefano eh ci fermiamo per qualche istante di pubblicità a rientro invece andremo alla scoperta del Tamagnini dove eh ci sa c'è stata nei giorni scorsi l'inaugurazione del nuovo eh campo di ultimissima generazione a fra poco grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti